Sono tanti anche in Sardegna i malati di idrostadenite suppurativa, una patologia cronica e altamente invalidante che molti non sanno neppure di avere. Scambiata per folicolite o peli incarniti per la sua particolare localizzazione nelle pieghe pilifere del corpo come le ascelle e linguine, la malattia raramente viene individuata e diagnosticata subito. L'associazione Inversa, Unlus, venerdì e sabato scorsi ha promosso a Cagliari, presso Palazzo Reggio, il primo congresso che ha chiamato a raccolta medici di base, pediatri ed ermatologi, proprio per dare supporto informativo ai pazienti che attendono aiuto da decenni. Perché dobbiamo davvero diffondere quanto più possibile la conoscenza e la coscienza della patologia, perché il paziente affetto di idrostadenite è un paziente silenzioso, è un paziente nascosto, è un paziente abituato a soffrire nel mutismo. Colpisce molto le zone intime, quindi la patologia, quindi c'è una vergogna anche a parlarne in casa. Molti hanno ancora tantissimi tabù. Andremo avanti proprio diffondendo il più possibile la conoscenza della malattia, come si sviluppa, come si manifesta, in modo che chi ce l'ha si possa riconoscere e possa ottenere supporto, cure, tutto quello di cui ha bisogno. Grazie.